Pochi istanti alla partenza della sesta corsa dall'arcoveggio, una categoria AB, trofeo Mario Rivara, Miglio con ritiri di Tamurero che Aramis e K, restano sei, questo lo schieramento, uno, All Mail, due, Vistamar, tre, Vandalo Gio, cinque, Zeffiro Gual, sei, Verdun, WF, seconda linea, otto, Vincere Ogar, Vandalo Gio, più atteso, insieme a Vincere Ogar. Macchina che va via in progressione, veloce dall'esterno, Zeffiro Gual che sorprende tutti e passa a condurre in poche battute nei confronti di All Mail, rimane all'esterno, Vandalo Gio, si accoda invece Vistamar, più indietro, Vincere Ogar, insieme a Verdun, WF. In vantaggio, dunque, Zeffiro Gual dopo 200 metri in 14,2, all'esterno è Vandalo Gio che copre All Mail in seconda posizione, e poi gli altri a seguire nelle identiche posizioni, 400 iniziali in 28,4, fa capire le proprie intenzioni Antonio Greppi e continua ad andare via di lena sulla seconda piegata, a un paio di lunghezze segue All Mail con all'esterno Vandalo Gio, all'esterno si impegna intanto anche Vincere Ogar, i primi 600 in 43 secchi, natura decisamente veloce per questo primo segmento di gara, mezzo miglio iniziale in 57,2, ancora un 14,2 davanti alle tribune, a questo punto deve venire via Vincere Ogar per superare Vandalo Gio che non lo porta avanti, scatenato in testa intanto Zeffiro Gual completa un chilometro iniziale in 1,11,7, Vincere Ogar si ingamba ora all'esterno di All Mail, ma ovviamente ha speso per arrivare dov'è, per raggiungere il fianchi di Zeffiro Gual che si difende al paletto dei 400 metri in finali, la frazione in 14,3, l'impressione però che Vincere Ogar abbia buona energia in servo da mettere in campo e Vincere Ogar passa già a metà dell'ultima curva, si avvantaggia lungo la corda, prende margine, Vincere Ogar in arrivo, si distacca, Vincere Ogar nel finale allunga ancora per concludere isolato in avanti, la lotta è solo per le migliori piazze, Zeffiro Gual si difende fin sul palo da tutti i tentativi di All Mail, 1,11,4, il raguaglio conclusivo con un triplo 28,8 per gli ultimi tre quarti dopo un 28,4 di partenza, il successo nettissimo per Vincere Ogar che Pietro Gubellini porta a una notevole prestazione, nonostante percorso esterno per gran parte della gara, vincerò Gar, vince davvero in maniera autorevole, Pietro Gubellini in sediolo e al training per la scuderia Infinity Castadiva. Grazie per la visione! Grazie per la visione!